Borghi storici, colline, chiese antiche, bellezze artistiche e poi degustazioni enogastronomiche e pranzi per assaporare le bontà della cucina picena. Non solo mare per i nostri turisti, dunque. Torno all'iniziativa sostenuta dalla provincia di Ascoli, vivendo il Piceno in percorsi, sorsi e morsi. Si tratta di gite turistiche a prezzi popolari, a bordo di comodi autobus, che tutti i giovedì e i venerdì del mese di agosto permetteranno ai turisti di passare una giornata intera visitando i magnifici borghi dell'entroterra Piceno, visitandone tre al giorno con il pranzo compreso e l'ospitalità a cura delle proloco interessate. Ogni adulto pagherà una tariffa di 20 euro, per i bambini invece la tariffa sarà di 10 euro. La quota comprende viaggio, visita guidata, assaggio e pranzo. Da quest'anno, grazie alla collaborazione con l'Asso Albergatori di San Benedetto, i possessori della Blue Card avranno la gita gratuita per i propri bimbi. La Blue Card, infatti, è un programma di intrattenimento ludico e sportivo, pensato dagli albergatori appositamente per il turismo familiare e per di turisti giovanissimi. Una card che dà diritto a escursioni, lezioni di sport e pittura e gite nell'oasi naturalistica alla valle di Spinetoli. Lo scopo di Vivendo il Piceno in percorsi sorsi e morsi è quello di far scoprire le bellezze del territorio e stimolare così la loro scoperta, magari anche in periodi dell'anno non tradizionalmente votati al turismo balneare. Su questa iniziativa, l'assessorato al turismo della provincia di Ascoli ha stanziato 20.000 euro.